Gregorio, sono arrivati tanti turisti sabato da dove? Sono arrivati da Gumenizia, in Grecia, una nave da 900 passeggeri americana. Si tratta dell'Oceania Riviera, una nave prestigiosa perché è una compagnia di alto livello. Tutti questi turisti hanno fatto il giro per la nostra città e per la provincia? 250 sono andati in escursione, proprio escursione organizzata. Significa andare dall'asila fino al parco archeologico di Capocolonna, fino al centro città, cantine nella zona del Cirotano e così via. A Crotone che cosa hanno voluto visitare? Il centro città, nel senso da Piazza Pitagora, sono entrati nel centro storico arrivando nella cattedrale, l'Immacolata, il museo archeologico, che comunque rappresenta sempre un fiore all'occhiello del centro cittadino. A Capocolonna? Altrettanto, la situazione è sempre stata di una visita che ha portato dei suoi risultati. Si è soddisfatto di quest'ultima cruciera? Diciamo niente nuovo e buone nuove, nel senso che non abbiamo avuto nessun reclamo, quindi vuol dire che i passeggeri sono rimasti soddisfatti di queste escursioni. Per noi l'importante è portare le compagnie a confermare i nostri scali, in quanto nel caso in cui ci fossero dei problemi verrebbero subito segnalati. Quando arriveranno le prossime navi? Abbiamo una decina di scali, 10 scali fino alla fine dell'anno, quest'anno si concluderà con 31 scali. Il prossimo scalo è giovedì di questa settimana, 2000 passeggeri tedeschi.